Prendilo un minuto per capire cosa che sta succedendo Il mondo sembrerà più gigantesco Quello che vedevi prima non è più lo stesso Ora l'aspector già avviato un nuovo impresso Con l'innovazione abbiamo portato poi un nuovo progetto Nel modo più diretto, ecco il più pazzetto Facciamo il tuo clone, spediamo il termine dove Basta sapere che ci chiamano miniclone Quando lo vedi fatto tu direi che sballo Ma fatti una foto tridimensionale al centro Tanto nella rete trovi il sito più vicino Ed è di certo che ti stupirai vederti piccolino Grazie